La lista di Forza Italia e noi moderati corre alle prossime elezioni per la candidatura a sindaco di Mirella Cristina. L'unità del centrodestra ha detto Cristina è il nostro faro. Insieme alle altre forze abbiamo condiviso il programma che sarà realizzabile con i piedi per terra, con proposte serie e i credibili. Tre punti principali la viabilità con il progetto di una nuova circonvallazione di gronda lungo il San Giovanni, parcheggi, navette per raggiungere pallanza, l'inversione del senso unico alla Beata Giovannina in direzione di Suna. Ringrazio i 32 candidati che hanno scelto di mettersi in gioco, ha proseguito Cristina. A loro il compito di coinvolgere e portare a votare le persone che hanno smesso di credere nella politica. Nella nostra lista c'è spazio per giovani e signores e sui contenuti aggiunto ci saranno anche ambienti e politiche sociali che non sono temi esclusivi della sinistra. I candidati sono Marco Bianchi, Francesco Paracchini, Giovanni Brigatti, Lucio Scarpinato, Clarissa Tacchini, Samuele Sergio D'Alessandro, Silvio Alberganti, Flora Scarpone, Luca Mainardi, Chiara Marmonti, Marco Saraceno, Mauro Montagna, Barbara Borella, Chiara Bai, Luca Iso, Anna Maria Sacco Piolini, Gianluca Di Mino, Sara Tamboloni, Chiara Nicolini, Aldo Mario Rosa, Leal Maciado Alexandre, Silvia Sturaro, Elisa Di Maria, Simona Podestà, Sara Poletti, Graziella Di Gabriele, Gioe Staroni, Marilena Rossi, Doriana Visioli, Massimiliano Zappa, Stefano Delfino Gianini, Cinzia Gianini.